Gaetano, prima di continuare a parlare di Fiorentino, non vogliamo una risposta, assolutamente No, 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 allora era assolutamente tutto vero, anzi noi abbiamo cercato di limitare i danni perché arrivavano telefonate lettere al tempo, in cui scrivevano ragazzotti ma il mio professore di ginnastia, la professoressa di matematica, i giovedì e i venerdì dalle 3 alle 5, invia tal dettaglio Quindi tutti spioni Tutti spioni, si era aperto un mondo, infatti è un'idea da ora, diceva bene Poi social diventa la mia donna Potrebbe essere un'idea A proposito di social, allora chiedo alla regia di proporci i tanti commenti, le tante domande perché oggi ho giocato con i tifosi sulla mia pagina chiedendo insomma cosa volevano sapere cosa davvero volevano ascoltare dallo studio di Viola Express in tantissimi appunto ci hanno chiesto di zarate e risponderemo ma non soltanto Allora andiamo anche a parlare di, abbiamo parlato di Perez e di Chiesa Si dividono i tifosi da chi dice sono comunque giovani di personalità e quindi è giusto che giochino a chi sì però non era la partita giusta ma non solo perché poi c'è chi ci chiede come Lucia Vediamo anche se la regia è pronta a farci vedere il commento quanto comunque le polemiche possono davvero danneggiare prima di una partita così importante Vi leggo letteralmente le domande Quanto hanno inciso le recenti polemiche sull'approccio alla partita? Prima domanda La seconda Partire la mattina stessa può essere un'altra determinante della mancata concentrazione iniziale dei giocatori? Chi ci risponde? Io credo che quando Corbino si presentava in sala stampa con Paolo Sosa volevano mandare un segnale e quindi non pensavo che vi fosse che le polemiche, gli striscioni, le discussioni potessero essere caso di un approccio come quello che c'è stato quindi francamente è difficile dare una risposta del genere sulla partenza della mattina io credo sia più cioè più giusto rispondere a lui io giocavo in prima categoria partire sempre la mattina Quanto cambia a partire il giorno stesso? Secondo me niente Secondo me cambia niente anzi la mattina poi giochi la sera ci sono 24 ore quasi insomma tranquillamente poi non è che vanno in bicicletta che giustamente anzi delle volte uno sta a casa sta anche più sereno cioè secondo me io ti spiego perché dico questo perché a me non mi è successo ma secondo me era sbagliato cioè noi andavamo tanto in ritiro tanti giorni secondo me il calcio d'oggi poi insomma non ce l'è bisogno poi secondo il mio punto di vista quello non incide rispondiamo a chi ci chiede di Zarate perché ce l'ha chiesto anche Maurizio del Viola Club a Fonte Cicciuffi la vostra idea Fabio? L'idea è che Paolo Sosa proprio non lo veda assolutamente sono 84 minuti in stagione a questo punto penso che come ha detto Drongoschi in una felice intervista rilasciata a qualche portale Polacco qualche settimana fa anche i magazzinieri arrivano prima di lui aveva detto Drongoschi a proposito del suo ruolo all'interno della Fiorentina penso che insomma prima dei magazzinieri no prima di Zarate arrivino i magazzinieri è un giocatore che secondo me non ha partita folle come quella di ieri sera essendo lui folle per eccellenza il giocatore più imprevedibile della Fiorentina ci poteva stare poteva essere gettato nella mischia al posto di Joshua Perez che è un 98 lui che è un 87 se non sbaglio insomma di campionati ne ha giocato le partite ne ha viste anche in Argentina dove appunto le partite folle se ne intendono non lo so io avrei fatto siamo però a parlare veramente delle cose marginali come se ti aspetti la bistecca e tu chiedi l'insalata cioè se tu vuoi la bistecca mi sembra è un po' qui ci sono talmente tanti problemi io li avessi sostituito condombia mettendo che ne so uno gnocuri di turno chi? gnocuri esattamente è la stessa cosa qui l'appoggio gnocuri no allora vi faccio io la domanda della serata eccoci gli obiettivi della Fiorentina non ci sono obiettivi quali sono? a questo punto voglio dire al di là di quanto ho detto ad inizio stagione la Coppa Italia diventa il principale obiettivo? siete d'accordo con me? oppure no? è nemmeno tanto facile però potrebbe essere un'idea io venivo qui c'erano le mani a corte e le ho infradito e ti dicevo purtroppo quest'anno l'obiettivo era stato non c'è un obiettivo sportivo e questo è uno delle origini di tutti i problemi perché quando te non hai in un fisso un obiettivo sportivo ma ti preoccupi solo di diminuire i monti ingaggi e di sistemare il bilancio a torto ragione in un giudico non hai un obiettivo cioè se arrivi e soprattutto se dai il segnale se dai il segnale che da primo in classifica te ti comporti o mi ti sei comportato a gennaio scorso nel girone di ritorno la squadra era la settima ottava nona te che hai fatto? invece di dare un segnale potevi fare due cose o investivi e miglioravi la squadra per rimotivare tutti o cambiavi tutto o quantomeno abbiavi anche la domanda che ci facevano da casa su quanto le polemiche intorno all'ambiente Fiorentina possano influenzare poi i giocatori perché il fatto che Pantaleo Corvino vada a parlare dopo che appunto c'è stato un periodo di polemica il fatto che l'anno scorso dopo le polemiche post Lazio comunque la squadra ha preso una china negativa forse veramente questo è un gruppo che sente anche le pressioni di una città che chiede grazie questo è un gruppo che voi state sopravvalutando voi chi? voi chi? Fabio è chi in questo momento si aspetta in questa squadra ma io non la sopravvaluto io vi dico forse addirittura oltre a non essere una squadra così forte magari non ha neanche queste capacità di sapersi isolare dalle polemiche Gaetano Gennai ti vedo carico vuoi intervenire io volevo dire una cosa io pensavo aver capito che il calcio uno per arrivare a fare qualcosa dovesse proprio rimetterci dei soldoni cioè qui se c'è con tutti se qui sono delle persone imprenditori che uno più uno deve fare tre io voglio dire non si stava meglio ma quando c'era vittoria ve lo volevo dire ma quando c'era vittoria era una squadra c'era debiti c'era debiti perché hanno fallito ogni cosa mi hanno portato via tutto anche Hansini c'era dei mezzi c'era tutto poi ho venduto ogni cosa ho venduto Battistotta ho venduto Ricosta ho venduto Toddo ho venduto ogni cosa e la sera dove sei capito allora fanno conti precisi più IVA e ritornano a conto sono fosti io vorrei fare una domanda al signor Ferri Corvino parla ancora? cioè dopo aver portato Salsedo Milic Olivera vari bidoni eccetera parla ancora? se tu mi chiedi se tu mi chiedi di comprarti la cena stasera e mi dai 5 euro io vado dal Kebabbaro qua a Barberino e ti compro la cena se tu mi dai 10 euro posso andare anche invece a non lo so allora si ritorna non si possono fare nomi ma a un ristorante e comprarti una bella bistecca allora si ritorna e senza ambizione marchigiani io penso che un direttore sportivo o comunque direttore generale dell'area tecnica soldi di tasca non li metta quindi di conseguenza i colpi li fa se ha una disponibilità quando ha avuto i soldi Corvino ha comprato giocatori importanti c'è salsera c'è visto ieri sauro fattori ascoltiamo ascoltiamo no ti vedo interessato o ti vedo no io ho detto prima delle volte cioè il calcio di adesso è molto cambiato sotto certi aspetti le società devono avere anche dei bilanci a posto ma non è secondo il mio punto di vista hanno solo noi a posto c'è ma non è poco non è poco avere a posto cioè io ho sempre un'idea io posso fare critiche che volete sì noni però ancora ancora è lunga come è lunga per me che sono primo è lunga anche per gli altri io anzi nell'ultimo periodo mi sembrava la Fiorentina avesse anche un attimino ripreso un passo importante nelle sei prima dell'Inter due punti di me ecco poi dopo può succedere di essere un po' altanelanti ora poi il calcio ho detto prima cioè l'Inter noi siamo a ragionare c'è un punto più di noi e una partita più di noi cioè loro hanno speso qualche solderello insomma c'è cinesi c'è cinesi sì lo so però noi cinesi noi invece per fortuna ci sanno ci sanno della valle per fortuna però posso dire l'è venuto più sudighe da penino a Milano di quanto si è venuto Diego a Firenze questo è il paradosso porta meno sfortuna di Toghio però però era era allo stadio ieri sera Diego è a Milano andiamo ad ascoltare le parole di Paolo Sotra del post-gara ha parlato sono stati errori nostri che purtroppo si penalizza sempre possiamo migliorare individualmente e settorialmente per prendersi migliori decisioni non è che erano molto difficili di risolverle però purtroppo è così la squadra è entrato bene a livello di organizzazione offensiva è stato bene dobbiamo migliorare su questi aspetti dopo ha continuato a crederci ha presentato un calcio straordinario che mi rende molto orgoglioso mi spinge ancora di più per migliorarmi e per aiutarli a che la squadra possa presentare i livelli che ha presentato praticamente durante quasi tutta la partita principalmente dopo di soffrire i gol e di tutta la complessità e difficoltà in renta a questa partita dobbiamo migliorare stiamo lavorando su questo purtroppo si sta penalizzando ogni situazione ogni sbaglio e cerchiamo di migliorare quello che noi abbiamo e cerchiamo di dargli anche a livello di organizzazione difensiva e di transizioni difensive di migliorarci individualmente e settorialmente è più arrabbiato per i primi 20 minuti o per la consapevolezza di aver dovuto giocare la ripresa in 12 contro 10 perché la sensazione è stata questa francamente grazie più che questo sono molto orgoglioso per i miei ragazzi sono straordinari mi rende veramente molto felice di allenarli perché mi spingono a essere sempre molto meglio di quello che sono fino a oggi per chi lo merita ed eccoci rientrati in studio ed è il momento di Leonardo Petri perché io sento arrivare la musica è diventata un pugno chiuso sai cattivo come adesso non lo sono stato mai cattivo come adesso non lo sono stato mai Leo non lo sono stato mai perché io ti penserò io ti penserò vado contro i tifosi dicendo per me invece Perez l'ingresso di Perez la promozione ormai in pianta stabile di chiesa fatto la credita abbia in rosa stabilmente 4-5 e quindi in un momento di difficoltà come è capitato al Milan poi ho visto se questi sono bravi o no questo al momento lo capiremo al momento non siamo in grado di dirlo però magari in un momento di difficoltà questa può essere la stagione da cui trovare nuova linfa interna almeno me l'auguro lo so ma magari questi sono bravi il Milan è se no non classifica cioè nel senso dalle disgrazie bisogna riuscire a trovare anche perché poi se no mi chiude la rubrica facciamo chiudere e poi l'altro aspetto invece non riguarda la Fiorentina riguarda il Torino stasera gioco in Coppa Italia o il Pisa però lo voglio dire perché mi è piaciuto molto l'iniziativa del Toro di giocare con il lutto al braccio per la tragedia avvenuta in Brasile della squadra brasiliana e fra l'altro stava avendo un sogno perché della Serie D era arrivata in Serie A e si giocava la finale della Coppa Sudamericana che è l'Europa League esatto e quindi mi trovi veramente d'accordo e insomma una tragedia che certamente ha colpito il mondo del calcio il mondo dello sport ma non soltanto ha colpito ovviamente anche noi però poi dobbiamo proseguire e parlare di Fiorentina torno dalla mia curva Fiesola perché volevate interrompere una carezza in un pugno per quale motivo? sono perfettamente d'accordo con Leonardo perché dico io l'avrei fatto giocare fin da subito io Teio non l'avrei nemmeno presentato Chiesa dici? No Chiesa certo Chiesa non l'avrei nemmeno presentato Teio perché è un giocatore impresentabile a questi livelli perché si gioca sempre in 10 contro 11 per lo meno Chiesa io sarei partito con lui inizialmente però con l'Empoli non aveva il fatto malissimo se vogliamo dirla tutta poi è vero che l'Empoli non è l'Inter però Empoli che tra l'altro non mi fa particolarmente piacere essendo io una tifosa delle squadre toscane Empoli uscita dalla Coppa Italia perdendo contro il Cesena mentre ha vinto il Chievo contro il Novara Chievo che sarà la prossima della Fiorentina esatto della Fiorentina mentre per quanto riguarda l'Empoli addirittura era andata anche sotto proprio durante i 90 minuti poi ha perso nel corso dei supplementari la squadra di Martuscello primo gol empolese per Gilardino che non è in balza molto ha segnato Gilardino pensando a Paolo Sosa che stanno gennaio cosa ti viene in mente? è un bellomino si presenta bene elegante la cavata insomma poi piace che lo difenda anche insomma Pantaleo Corvino che diceva giustamente gli amici continuano a parlare ma effettivamente il punto è che io non capisco che dia quindi può stare lì e fa comunque no no Sosa cioè la gavenne Sosa guarda è bellissimo a pitti uomo e stanno penso a lui no? in servizio di Nicolo Ghinassi su Sosa eccoci meglio vedere che il Portogallo sia una terra di esploratori o chi abbia preso da Vasco da gama o meno di sicuro qualcosa di ardito deve avercelo Paolo Sosa nel proprio DNA anche solo guardando le ultime dichiarazioni del tecnico di Viseu no non si tratta delle parole in conferenza stampa post Inter dove Sosa in realtà ha mostrato signorilità nel non commentare l'operato dell'arbitro D'Amato ma ancora di quelle legate a Federico Bernardeschi e non solo a lui perché qui il discorso si fa più ampio di sicuro infatti le parole shock del mister Lusitano riguardanti il talento di Carrara per quanto possano essere state veritiere o meno non sono piaciute alla società dei Della Valle che stanno valutando attentamente se far valere l'opzione in scadenza il 31 marzo per il rinnovo del contratto del portoghese anche per la prossima stagione se così non fosse ed il rapporto tra mister e società non si ricucisse a giugno sarà addio allora sempre che chiaramente nel frattempo non sia stato già deciso dai risultati il destino dell'attuale guida dei Viola del resto l'ha sempre detto anche Sosa il mio futuro dipende dai risultati rimandando sempre al campo una qualsiasi valutazione sul suo avvenire ma quel che è certo è che certe azioni certi comportamenti non possono passare inosservati e sembra chiaro che qualcosa si sia incrinato tra il mister Lusitano e la Fiorentina strano dal momento che l'avventura alla guida dei Gigliati era cominciata nel modo migliore e più inaspettato per Paolo che l'anno scorso dopo un mercato estivo non certo brillante era riuscito a chiudere da secondo in classifica il girone di andata dopo di allora però la rottura già perché è dallo scorso mercato di gennaio e dalle dichiarazioni al veleno del tecnico portoghese che qualcosa non va tanto che più volte si è parlato di un possibile addio di Sosa di sicuro gli interventi sul mercato che aveva tanto predicato la guida dei Gigliati non ci sono mai stati né in inverno né quest'estate con il profilo del tecnico da Viseu che allora si avvicina sempre più a quello di Prandelli e Montella anch'essi allontanatisi da Firenze dopo una comunicazione non certo idilliaca con la società società che a questo punto ha due opzioni davanti a sé o tentare di chiarire fino in fondo la questione Paolo Sosa magari con un'ulteriore riunione chiarificatrice o altrimenti decidere di salutare un altro mister ambizioso e dallo stesso tempo ambiguo nella sua filosofia comunicativa Petri sei d'accordo anche con questo paragone fatto da Niccolò Ghinassi tra Sosa e Montella senti io ti dico la verità a fine stagione quando Sosa ci saluterà e andrà a cercare di vincere la Champions League da qualche altra parte io rimpiango più Montella perché sul piano del gioco io che era più forte però io ho visto la Fiorentina di Montella a me del terminale partire mi ha esaltato questa Fiorentina di Paolo Sosa anche nel momento migliore non mi ha mai non insomma non ho mai arrivato ai picchi della Fiorentina di Montella che ripeto era molto più forte vedevo la curva Fiesole partecipe in questa questa dichiarazione mi devo annuire siete d'accordo? perfettamente d'accordo anche perché io ritengo che la prima parte del campionato dello scorso anno era un'eretità di Montella Fattori? io sempre ogni allenatore dà la propria impronta perché sinceramente ora Paolo Sosa l'anno scorso ha cambiato totalmente il modo di giocare della Fiorentina perché io mi ricordo anche io vi spiego io amo Montella è come proprio così anche fisicamente come me insomma no per dire però per dire che Montella l'ultimo anno era una noia che noi fiorentini siamo un po' così e fece semifinale opitale semifinale di Europa però era venuta a noia sinceramente era venuta a noia però insomma quando la Fiorentina era in testa della classifica tutti usano avano Sosa anche a Firenze certamente ma infatti ho detto ha cambiato delle cose ho sempre detto i allenatori vivono molto dei risultati giustamente però poi insomma secondo me anche Paolo Sosa ora non è perché ma prima o so giudirei mai mi permetterei mai un collega insomma un collega abbastanza alto è confettato a me però io dico che secondo me ha fatto bene a Firenze non è che ora poi ci sono state delle polemiche delle cose secondo me sono stata anche un po' enfatizzata insomma vedi l'ultima frase insomma non ti ho detto su Bernardeschi secondo me se ne è fatto una polemica che invece secondo il mio punto di vista è proprio darsi io non entro in merito io la prima cosa che ho pensato era che voleva fare un complimento a Bernardeschi però uno può pensare anche a maniera diversa io non è che non so la verità non sono la lingua non aiuta quindi come ha detto Ginassi che è un signore appunto dicevo prima appunto c'è a livello comunicativo qualcosa che è andato storto ma insomma magari voleva davvero fare un complimento perché quando guardava a me che gli andavo bene mi dicevano che ero bravo e sinistro quando voleva parlare mai diceva di testo non la prendevo mai insomma e poi tutto è opinabile certo chiave di lettura eh la chiave di lettura è determinante vediamo poi la chiave di lettura anche di fattori sulla Fiorentina femminile però oggi è semplice oggi è troppo facile parlare di Fiorentina femminile perché io devo sempre che è sempre un lavoro che parte dall'8 d'agosto e arriva a ieri e deve arrivare fino a maggio insomma piccolo break restate con noi a tra poco grazie a tutti